Poracci, bentornati o benvenuti sul Porocast, l'unico podcast di internet.poro dove si parla di videogiochi senza un cappello. Quello di oggi sarà un episodio ricchissimo perché nonostante sia domenica, in realtà si tratta di un anniversario importantissimo, infatti è passato esattamente un anno dall'uscita di Tears of the Kingdom, un titolo che ha segnato il 2023 e tutta quanta la line-up Switch. Quindi ho pensato di fare questo episodio un po' particolare, diviso in due sezioni differenti. Nella prima discuteremo un po' di Tears of the Kingdom, di come è cambiata la percezione del gioco, o se magari è rimasta la stessa, nel corso dell'anno, e parleremo anche delle iniziative prese da Nintendo per celebrare questo importante anniversario. E poi invece nella seconda parte vorrei prendermi un po' di spazio per celebrare invece quei giochi che non sono delle produzioni gigantesche, ma che in un periodo così strano per l'industria videoludica comunque la tengono in piedi. Quindi parlo delle alternative indie ai grandi titoli che purtroppo non escono ogni mese, non escono neanche ogni anno, e quindi ci sono tantissimi giochi che possono colmare proprio questa mancanza, ma che magari nessuno conosce. E proprio per questa occasione ho avuto anche l'opportunità di intervistare i ragazzi di Panic Arcade, che sono i due sviluppatori dietro al bellissimo Yellow Taxi Ghost Room, un platform che a me ricorda tantissimo il Super Mario in 3D, ma non solo, perché ci sono dietro tantissime ispirazioni. Beh, questo platform è disponibile da aprile, mi sembra, il progetto lo seguo da tantissimo, e ora che è uscito io spero che più gente possibile, soprattutto chi adora i platform in 3D, e chi adora i giochi di Super Mario scopra questo Yellow Taxi, e quindi è stato molto molto interessante poter parlare con chi il gioco l'ha creato e scoprire tutto il lavoro che c'è dietro, e non solo. Detto questo, io vi ringrazio per guardare o ascoltare anche questo podcast, e come al solito vi invito a supportarmi, a sopportarmi, ma soprattutto datemi gli sordi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video, io ho detto tutto, iniziamo! La mia su Tears of the Kingdom, bene o male la sapete, anche perché, anche se in nettissimo ritardo, ho fatto uscire un video abbastanza riassuntivo di tutti quelli che erano i miei pensieri all'epoca, su quello che poi ho definito un capolavoro generazionale. Sono ancora convinto di questo, anche se devo ammettere che la percezione nel corso dei mesi è un po' cambiata nei confronti del gioco, anche se in positivo. Infatti, adesso che ho maturato un po' di distacco emotivo dal titolo, posso dire che accuso, almeno nei ricordi, accuso ancora di meno la somiglianza e la continuità che c'era con Breath of the Wild, e anzi, nella mia testa sono diventati effettivamente un discorso unico. Sono sinceramente convinto che come gioco abbia pagato tantissimo l'essere un seguito diretto di Breath of the Wild e abbia pagato tantissimo anche questa attesa morbosa da parte del pubblico che voleva a tutti i costi un qualcosa di rivoluzionario. Invece, Tears of the Kingdom non ha quell'impatto, insomma, di straniante ma proprio rivoluzionario appunto che aveva Breath of the Wild, ma riesce comunque a costruire e a creare qualcosa di incredibilmente unico partendo poi da delle premesse molto molto familiari. Ecco, soprattutto relazionandomi con gli open world dell'ultimo anno, in particolare Final Fantasy VII e Rebirth, devo ammettere che l'open world di Tears of the Kingdom è qualcosa di inarrivabile e nonostante rispetto a Breath of the Wild vada a prendere un po' la formula dell'open world classico, quindi fatto di tante microtasque da compiere, incentrato diciamo proprio sul completismo, mentre Breath of the Wild era più un qualcosa che metteva in primo piano l'esplorazione fino a se stessa, la voglia di scoperta. Ora, nel seguito questa scoperta era difficile ricrearla allo stesso modo partendo dalla stessa mappa e allora Nintendo è riuscita comunque a prendere un template ormai stra abusato ma a crearci qualcosa di sopra di unico, proprio inconfondibile e questo ovviamente è dettato dal sistema di costruzioni che c'è dietro, l'ultramano, l'ultra-end è qualcosa, trascende proprio il comprensibile soprattutto se poi si tengono in mente gli evidenti limiti tecnici della console che comunque fanno tirare il collo alla Switch quando c'è da giocare a Tears of the Kingdom che purtroppo l'unico Neo appunto ha delle performance non proprio al top, non proprio stellari, però Nintendo è riuscita appunto a prendere, lo vogliamo definire così, il template dell'open world Ubisoft e a non renderlo una grandissima checklist di cose tutte identiche da fare e da ripetere più e più volte. C'è quella componente di creatività e di giocosità che fa sì che anche i processi più tediosi e più ripetitivi alla fine possano essere affrontati sempre con estrema libertà e questo rende il tutto sempre nuovo o quantomeno mai uguale a se stesso e quindi non c'è quella sensazione di scoperta che teneva in piedi il primo capitolo ma c'è la sensazione di avere sempre completa azione, completa possibilità di azione su quello che si sta facendo. Final Fantasy VII Rebirth non è così, mi è piaciuto tantissimo come gioco, almeno parlando dell'aspetto di gameplay, ma tiene in piedi il tutto con una grandissima potenza visiva, grafica in generale, c'è poi dietro tutto un immaginario potentissimo, anche la voglia del giocatore nostalgico, appunto c'è tutto questo effetto nostalgia, c'è la voglia di scoprire come hanno ricreato qualcosa che era estremamente più limitato e ambizioso, se vogliamo, all'epoca, come tutto questo discorso, un discorso che ha stregato un'intera generazione di videogiocatori, forse anche qualcosina in più, è stato riadattato secondo i canoni moderni, quindi c'è tutta questa fascinazione intorno a un progetto molto molto ambizioso, che però poi alla fine se uno va a vedere il cuore di quello che è l'esperienza, ha dei limiti evidenti, o quantomeno non sarà mai un open world come quello di Tears of the Kingdom, nonostante poi le premesse base siano sempre quelle, insomma c'è il tuttofare che deve risolvere un tot di compiti, devi sbloccare poi le torri di osservazione, vabbè insomma il template lo conoscete, non voglio dilungarmi più di tanto. Quindi io penso sul serio che sia un open world incredibile, non so quello che riserva il futuro della serie, non so se ci sia ancora spazio per questa impostazione, non so neanche io cosa vorrei, se un ritorno all'impostazione classica, oppure continuare a sperimentare quelle possibilità di appunto lasciare al giocatore la totale possibilità decisionale. Non saprei, però Nintendo comunque come si muove almeno con Zelda, in generale con le sue IP, raramente sbaglia, ed è più che altro necessità da parte del giocatore di comprendere e adattarsi a questi stravolgimenti. La serie ormai, le serie Nintendo in generale vanno avanti da più di 30 anni, almeno le più vecchie, e se ancora oggi sono popolarissime, famosissime, è perché nel corso degli anni hanno saputo rinnovarsi di volta in volta, affrontando nuove sfide, incorporando nuovi paradigmi, molto spesso creando questi nuovi paradigmi, e poi tracciando la strada per tutto quello che sarebbe venuto dopo. E quindi ci sta, secondo me, che ogni generazione ci può essere questa sensazione di vuoto sotto i piedi, e di trovarsi di fronte a qualcosa che non è esattamente quello che ci aspettavamo, però comunque, nonostante Breath of the Wild e Tears of the Kingdom siano due titoli estremamente diversi da quello che era il gameplay della formula classica, che ormai, insomma, mostrava anche i suoi anni, alla fine sia Breath of the Wild che Tears of the Kingdom sono degli Zelda, proprio nella loro essenza, nel loro cuore, e nell'essere appunto il prototipo dell'action-adventure, dell'esplorazione, della scoperta, del senso di meraviglia di fronte a un qualcosa di così vasto e sconfinato che sembra trascendere proprio le possibilità di scoperta del giocatore, ma in realtà non è così. Comunque sono ancora convinto fermamente che la parte migliore di tutta quanta l'esperienza, nonostante poi sia quella più tediosa e ripetitiva, sia quella del sottosuolo, una vera genialata, la trovo proprio spettacolare, le isole nel cielo, sì, sono un po' un'occasione sprecata, però nel complesso, ragazzi, per me rimane ancora una delle folgorazioni più assolute degli ultimi anni, molto più di Breath of the Wild, o meglio, adesso mi rigiocherei con più voglia Tears of the Kingdom piuttosto che Breath of the Wild, c'è più roba da fare, c'è più roba non da scoprire ma da completare, e quindi c'è una spinta in più a ritornare sul gioco. Sono curioso in questo di sapere come la pensate voi, se per voi è cambiata la percezione del titolo nel corso del tempo, ora insomma che abbiamo anche un po' la possibilità di esserci raffreddati nei suoi confronti, e di avere i ricordi confusi, e magari poi quando si parla dei ricordi, tutti gli elementi più frustranti magari vanno anche in secondo piano, e appunto a me sono rimaste delle oltre 130-150 ore, in cui ci ho giocato solo ricordi positivi, emozione profonda dal punto zero fino alla fine, anzi da prima del punto zero, cioè se ripenso all'ultimo trailer di presentazione mi vengono i brividi, ed effettivamente il gioco mi ha messo i brividi in più di un'occasione, però in questo sono curioso di scoprire cosa ne pensate voi, se la vostra opinione si è modificata o meno, e soprattutto ditemi anche come vi immaginate il prossimo Zelda, che a questo punto possiamo immaginare arriverà come esclusiva su Switch 2, o come si chiamerà, tra l'altro c'è stato un leak del nome, ma ne parliamo in un TG Poro classico, che magari arriverà domani, non lo so, però intanto passiamo a quelli che sono le celebrazioni da parte di Nintendo, per il primo anniversario di Tears of the Kingdom, ci sono principalmente due cose che vanno tenute d'occhio, la prima è questo grandissimo artbook gigantesco, che verrà chiamato Masterworks, per ora annunciato soltanto per il Giappone, il libro sarà di 464 pagine a 4 full color, completamente a colori, vabbè ci mancherebbe altro, e sarà diviso in tre parti, sarà, la prima parte sarà uno sguardo all'arte di Tears of the Kingdom, la seconda ai materiali, e la terza sarà incentrata sulla storia, vabbè ovviamente all'interno ci sarà di tutto, dagli storyboards ai concept art, a nuove illustrazioni, insomma sarà proprio un libro ciccionissimo, che andrà a riprendere un po' quella che è stata l'esperienza di Creating a Champion, che invece era per Breath of the Wild, per ora abbiamo solo 4 screenshot disponibili di quest'artbook, che se vogliamo dire, ne avevo parlato anche con il buon Nanni all'epoca, il libro presente all'interno della Collectors Edition era molto deludente in termini di qualità e proprio di contenuti, e probabilmente tutta la roba molto molto bella se la sono tenuti per questo Masterworks, che non mi sembra sia stato già annunciato il prezzo, si sa che arriverà il 30 agosto 2024 sul Giappone, ma siccome comunque di solito libri del genere prima o poi vengono tradotti, possiamo anche aspettarci una release magari in un secondo momento per il suolo europeo. Quello che temo invece per ora non arriverà da noi in occidente, è la colonna sonorale del gioco, mi spiego meglio. Inizialmente liccata, ora è stata confermata ufficialmente, verrà venduta la colonna sonora di Tears of the Kingdom in un set mastodontico, perché sarà composto da 9 dischi per un totale di 344 tracce, una roba gigantesca, e verrà venduta al prezzo di 13.200 yen, che qui dicono circa 85 dollari, sì ok, dovrebbero essere quasi 79 euro. Quello che però è ancora più interessante, anzi ancora più costoso, è che ci sarà anche una versione deluxe di questa colonna sonora, che verrà venduta alla bellezza di 19.800 yen, quindi 127 dollari, quindi 115 euro, e questa conterrà tutta la soundtrack, ovviamente, ma poi anche una USB a forma di Master Sword. Questa Master Sword potrà essere esposta grazie a uno stand che sarà incluso all'interno della confezione, e al suo interno ci saranno 15 fonti sonore ad alta definizione da godersi. Non so se qualcuno ne ascolterà mai, però, insomma, sembra una bella cafonata. Però, appunto, per ora non è stato annunciato nessun tipo di distribuzione al di fuori del Giappone. Uscirà il 31 luglio 2024. Chissà, magari entro la fine dell'anno ce l'avremo anche noi, però su questo non posso garantire. E per finire, lo avete visto anche nella community tab del mio canale, è stato pubblicato anche questo artwork, bellissimo, che riprende appunto il concept alla base Tears of the Kingdom, che è quello della stretta di mani, dell'atto di fiducia, del fidarsi e questo tentativo disperato di salvare Zelda da parte di Link. Molto, molto bello. Però, se mi seguite su Instagram, avrete visto che ho condiviso anche un artwork non ufficiale, è bellissimo anche quello che racchiude un po' tutta l'esperienza di Tears of the Kingdom, quindi, in caso, andatevi a recuperare pure quello. Quindi, un anno di Tears of the Kingdom, vi aspetto nei commenti per sapere, insomma, cosa ne pensate del gioco, del passato della serie, ma anche del futuro della serie. Però, a questo punto, non si vive solo di grandi produzioni AAA, soprattutto con i ritmi di Nintendo, che comunque ci ha messo cinque anni a tirare fuori un seguito diretto di un titolo di cui praticamente già aveva a disposizione tutti quanti gli asset, ma piuttosto c'è, fortunatamente, la scena indie che ci salva in continuazione e volevo un attimo farvi qualche parallelo interessante e farvi, così, prendere in considerazione qualche titolo che magari vi è sfuggito e non avete tenuto d'occhio, perché, appunto, è molto più difficile scoprire questi giochi, soprattutto perché poi hanno delle distribuzioni spesso limitate, a volte solo su Steam, quindi non è detto che siano per forza su Switch. Allora, innanzitutto abbiamo una notizia molto positiva per gli amanti di Sonic, perché è stato appena annunciato il porting per Nintendo Switch di Spark the Electric Jester 3. Non abbiamo ancora una data precisa per quando questo porting arriverà su console ibrida, però, secondo me, molti di voi non conoscono questo gioco. Io lo conosco tanto di fa, ma non l'ho provato, ma sono felice a questo punto di aver aspettato la versione per Switch, perché viene indicato un po' da tutti quelli che l'hanno giocato e soprattutto dai fan di Sonic come l'erede spirituale della serie, ma soprattutto come uno dei migliori Sonic in 3D mai usciti, pur non essendo un Sonic in 3D. Dalle immagini potete vedere, insomma, che il titolo riprende esattamente quello che dovrebbe essere, almeno in teoria, un Sonic in tre dimensioni, quindi un platform estremamente frenetico, veloce, con dei percorsi semi-obbligati, che però hanno un design contorto e che sfida proprio le leggi della, ma neanche della gravità, della comprensibilità. Ci sono poi anche delle fasi più action e di combattimento. Io, tutte le recensioni che ho letto, tutti i pareri di appassionati, sono sempre stati super super entusiastici nei confronti di questo gioco, quindi io vi consiglio di tenerlo d'occhio, soprattutto se magari avete giocato, non lo so, un Frontiers, o un Colors e li avete apprezzati, ma avete pensato, va, però forse gli manca qualcosa, forse si potrebbe fare qualcosa di meglio. Beh, ecco, questo qua, a quanto pare, è quel qualcosa di meglio, che però è stato fatto con delle produzioni minuscole a confronto, se non sbaglio, è stato sviluppato da una sola persona, quindi rendetevi conto anche dello sforzo che c'è dietro una produzione del genere. Ripeto, Spark, The Electric Jester 3, non conosco i primi due capitoli, ma da quanto ho capito, questo è un po' il culmine del discorso e forse non l'unico, però il più interessante di sicuro. In uno degli ultimi TG Poro vi avevo parlato in modo molto fomentato di Animal Well, un metroidvania indie che è uscito praticamente lasciando tutti quanti di stucco, tanto che molte testate, molti recensori, insomma, critici, gli hanno dato il perfect score. Si parla di uno dei metroidvania più interessanti degli ultimi anni, soprattutto perché è un gioco dove praticamente non c'è combattimento, ma solo esplorazione e puzzle solving e da quello che ho letto i puzzle di questo titolo sono qualcosa di fantastico, difficilissimo, ma incredibilmente soddisfacente una volta che si porta, si risolvono questi enigmi. Quello che non vi ho detto però è che in realtà nel TG Poro dicevo, però porca miseria, costa ancora leggermente troppo. No. Ci sono due cose che dovete notare. Innanzitutto, è disponibile all'interno del PlayStation Plus Extra. Quindi, se volete e soprattutto se avete l'abbonamento attivo, potete per ora provarlo e giocarlo senza pagare alcun costo aggiuntivo. Mi ricordo che verrebbe a costare circa 25 euro. In più, se proprio siete tra quelli che le versioni digitali, tra l'altro ho messo stop su un frame fantastico, se siete tra quelli che le versioni digitali proprio non le sopportano, è stato, non lo sapevo, me l'avete segnalato voi, però è stato già annunciato una versione fisica da parte di Limited Run Games che verrà venduta a 40 dollari la versione liscia e 99 dollari, 100 dollari la versione fisica sia per Switch che per PlayStation 5. I pre-order non sono ancora aperti, come al solito, almeno sulla carta, queste edizioni sono fighissime, però, quindi, se volete edizione fisica dovete aspettare ancora un pochino. Magari potete tamponare giocandolo in digitale su PlayStation Plus Extra, però io ve lo dico, con tutti i casini che ultimamente stanno facendo quelli di Limited Run Games non so quanto me la sento io personalmente di acquistare da loro perché non sono proprio la compagnia più trasparente in assoluto. Ecco, forse, se proprio non potrò resistere andrò a diversione liscia. Però, i pre-order verranno aperti tra 11 giorni, quindi il 23, insomma, impostate l'orologio e ricordatevi di questa cosa molto importante. E poi, passiamo invece dall'ambito Steam, ci sono due titoli che mi interessano, anzi, tre titoli che mi interessano parecchio. Il primo è Pseudoregalia, questo lo prenderò a breve, straconsigliato da tutti, anche da voi, e se siete in astinenza, anche in questo caso, sia di platform 3D ma anche di Metroidvania, questo gioco piccolissimo, mi sembra duri circa una 4-5 ore per essere completato, in realtà potrebbe fare proprio al caso vostro perché, a parte il protagonista Furry, è praticamente una rivisitazione tridimensionale di quelli che sono i classici canoni del Metroidvania, quindi esplorazione con blocchi ambientali che vanno superati recuperando nuove abilità. Però, il moveset che c'è dietro non siamo un po' imbalsamati come in un Metroid Prime, ma qui è un platform a tutti gli effetti che ricorda, insomma, se vogliamo, anche i moveset più complessi di un Super Mario Odyssey. Quindi, c'è tanta verticalità nei livelli, il level design a quanto pare la fa da padrone, e insomma, per 5 euro, questo si prova assolutamente simile a giochi che ha giocato Control, quindi per forza va preso, assolutamente. E poi, per gli amanti dei survival horror vecchio stampo, è uscito qualche giorno fa Crow Country, che purtroppo è disponibile su tutte le piattaforme, tranne che su Switch, e questo invece è un gioco che si ispira proprio all'epoca d'oro dei survival horror anni, fine anni 90, diciamo, quindi i primi esperimenti più o meno tridimensionali, c'è tanto Resident Evil, c'è tanto Silent Hill, però anche in questo caso si parla di un prodotto che supera le aspettative di tutti quanti, anche qua sono piovute a cascata recensioni estremamente positive, potete vedere poi anche una cosa che apprezzo particolarmente è questo stile grafico che sì, è reminescente di quell'esperienza su PlayStation 1, ma allo stesso tempo è anche molto moderno e anche unico se vogliamo, perché c'è questa questa sorta di di connubio, sembra un po' un Silent Hill fatto con i Playmobil, non so come cosa mi attira parecchio, questo dei titoli che vi sto proponendo è quello che ho scoperto più recentemente, è quello che conosco di meno, ma essendo un grande stimatore del genere e poi avendo giocato recentemente Signalis, questa nuova wave di recupero dell'estetica anni 90 e di quel tipo di gameplay mi rende felicissimo e sono curioso quindi di provare anche Crow Country, magari qualcuno di voi già l'ha provato, lo conosce o è rimasto incuriosito, mi farebbe molto piacere se nel caso fosse così e per chiudere ve lo consiglio nuovamente e poi vi lascio all'intervista dei Panic Arcade c'è Yellow Taxi Ghost Room, altro titolo che sta facendo il botto con le recensioni positive su Steam ed è un gioco che io ve ne parlo più o meno da due anni dalla Games Week 2022 credo e sono felicissimo di aver seguito questo progetto fatto da due ragazzi italiani ed è veramente un platform molto atipico perché in teoria non c'è il tasto del salto ma c'è soltanto il tasto dello scatto ma volendo c'è la possibilità di creare una sorta di saltino di sospensione in aria bloccando il tasto dello scatto e da questa semplice premessa a cui si aggiunge poi se vogliamo forse un'altra mossa si riescono a concatenare delle cose incredibili qua nel video che sta passando in sottofondo il gioco viene paragonato a Banjo Kazooie che incontra Crazy Taxi in realtà è una descrizione abbastanza giusta ma c'è anche molto di più di questo sebbene ci siano poi dei livelli ispirati proprio al gameplay di Crazy Taxi dove bisogna portare i vari clienti da un posto all'altro della mappa per far salire il tempo a disposizione in realtà questo qua poi è un collectaton duro e puro si rifà proprio all'esperienza non solo di Banjo Kazooie ma anche vorrei dire Super Mario 64 ma secondo me più di Super Mario Odyssey e in più c'è questo stile grafico low poly minimalista che riprende a piene mani dagli arcade degli anni 90 impossibile non pensare a Radical Bikers a me vengono poi in mente non so perché tantissimo i giochi Sega Saturn e anche qualcosina del Dreamcast e poi di fondo c'è un'ironia fantastica ragazzi con dei livelli completamente fuori di testa io non vi spoilerò nulla però come potete vedere ci sono tantissimi riferimenti non tanto alla pop culture ma proprio ai videogiochi tanto che gli sviluppatori sono stati costretti a mettere ogni 5 secondi il disclaimer questo qua è un'opera di fantasia ogni ogni riferimento è puramente casuale perché effettivamente ci sono delle cose veramente geniali esageratissime che fanno molto molto ridere uno di quei giochi che nel momento in cui inizi a capire come si controlla e spoiler succede subito ti rapisce completamente e diventa un non stop fino alla fine io ve lo straconsiglio se non sbaglio c'è la demo su Steam su Switch purtroppo il titolo non c'è ma mai dire mai e niente vi lascio a questa intervista dove abbiamo parlato appunto dello sviluppo del gioco e di tutte le sfide che sono state affrontate e anche poi le ispirazioni che ci sono dietro ragazzi di Panic Arcade vi ho conosciuto in realtà già due anni fa credo più o meno perché ci siamo incontrati alla Milan Games Week vi ho conosciuto grazie a Yellow Taxi Go Su Room che è questo platform completamente fuori di testa che ho adorato dal primo secondo in cui l'ho visto e che è uscito da pochissimo un mesetto giusto? aprile mi sembra 9 aprile esatto ok io sono molto curioso di scoprire insomma un po' tutto quello che c'è dietro questo progetto però partirei proprio dalla fine nel senso il gioco è uscito da un mese e mi sembra che la ricezione sia stata parecchio positiva parecchio entusiastica chiedendovi un po' come va ditemi anche come è andato questo primo mese di pubblicazione se vi aspettavate un feedback del genere insomma direi che siamo rimasti enormemente sorpresi che la maggior cioè praticamente c'è stato un periodo dove siamo arrivati tipo a 250 solo review positive che non ce ne aspettavamo anche un po' dall'esperienza dei progetti passati o comunque da quello che succede di solito anche per altri giochi aspettavamo qualche recensione negativa un pochino prima siamo stati veramente contentissimi gente che scrive anche delle recensioni che un pochino scaldano anche il cuore perché dici cazzo ci ho lavorato così tanto e ci fanno dei complimenti che vabbè poi un tizio su internet che dice ah game of the year è un tizio su internet che dice la sua però è sempre bello leggere beh devo dire io prima mi stavo facendo un po' una ricognizione sulle recensioni Steam ed effettivamente un po' perché il gioco si presta a uno spirito molto scherzoso ironico ci sono molte recensioni di cazzone ma ci sono poi anche molte molte recensioni approfondite positive e anche molte con cui io mi trovo d'accordo perché magari lapidare molto concise che però dicono azzeccano perfettamente lo spirito del gioco ho letto una per esempio che diceva questo platform capisce che la cosa più importante è fare in modo che muovere il personaggio sia una cosa divertente tanto basta per fare un grande platform su questo sono d'accordissimo perché è proprio la prima cosa che mi ha subito ho subito provato giocando già alla demo della Milan Games Week quindi secondo me ci sta e insomma vi meritate tutto questo feedback positivo insomma siamo extra contenti abbiamo messo un sacco di attenzione anche al cosiddetto juice quando c'è un'animazione il taxi che drifta oppure un personaggio viene colpito sia dalle animazioni procedurali a codice che da quelle ossa fate poi in blender quello secondo me al di là del fatto di come si muove il taxi aggiunge come si può dire del feedback sì c'è quel feedback che arricchisce l'esperienza sì sì certo volevo chiedervi un po' come come è andata la genesi di questo progetto cioè come come è nata proprio l'idea e poi anche la lavorazione quanto ci avete lavorato sopra insomma anche perché noi ci siamo visti due anni fa ma il progetto mi sembrava già a un buon punto quanto meno per i fondamentali del concept poi non so quanto dovevate ancora lavorarci a livello di work design level design eccetera eccetera però insomma c'è stato un sacco di lavoro fino all'ultimo giorno non abbiamo smesso di lavorare ma anche il rework anche dopo ma il progetto com'è che hai iniziato ad una gemma sì alla game jam avevo iniziato il gioco l'avevamo fatto tipo in una settimana mi pare era il 2020 però era proprio un altro scopo per il gioco ecco sì il gioco ha avuto un sacco di successo nella game jam infatti eravamo arrivati pure tra i primi posti non ricordo sì della categoria divertimento c'erano varie categorie la categoria divertimento c'è da dire che però era un clone di crazy taxi puro in quel titolo della game jam un anno due dopo abbiamo abbiamo deciso di fare una demo forse un anno un anno sì abbiamo deciso di fare una demo migliore comunque il gioco della game jam era la qualità del lavoro di una settimana e poi presentarlo agli editori poi those have some guys ci hanno accolto diciamo ci hanno accolto e hanno aiutato profondamente nello sviluppo del gioco nel 2019 mi pare milano game week 2019 quando ci siamo visti no 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 era dopo sicuro era post pandemia 2022 sì sì 2022 diciamo che ancora eravamo nelle interazioni iniziali del level design in realtà non mi ricordo se all'epoca c'era già il saltino quello che si interrompi lo scatto in avanti mi sembra di sì 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 mi sa che c'era allora dopo successivamente 2023 abbiamo introdotto anche un'altra cosa il backflip abbiamo un pochino migliorato anche la percezione di questo saltino perché avevamo dei commenti del tipo ma scusa ma questo è un platformer dove dici che non puoi saltare ma poi il salto è solo che devi sbatterti un po' di più premere due tasti invece che uno per farlo ci abbiamo lavorato attorno a questo tipo di affermazioni cambiando anche proprio il level design dai vari livelli in modo che girassero molto più attorno allo scatto e basta quello che deve sfruttare no le salite così il giocatore non sentendo l'esigenza di saltare non gli viene ad apporre poi quella critica e abbiamo anche rimosso le guide cioè le abbiamo reso un pochino più nascoste la guida che ti insegna come fare il saltino come fare il backflip e abbiamo messo anche attenzione a quando venivano scoperti nella progressione questo per alterare un pochino la percezione che si aveva di questa questa decisione diciamo di non avere il salto ma in realtà c'è comunque da cosa è nata la decisione di voler fare un platform senza senza salto diciamo che poi appunto in un certo senso è stato reintrodotto però l'idea di base è quella dell'appunto l'accelerazione lo sfruttare il terreno e non c'è diciamo la spinta non nasce appunto dal salto ma dalla spinta in sé è stata una sorta di concept su cui avete costruito tutto è una cosa che è arrivato dopo all'inizio mi pare che era tesi taxi con l'esplorazione e con l'exatron in giro quindi il salto non c'era sì il saltino diciamo era più che magari abusavi il fatto che ti schiardi su un muro e ti caffotti già c'era che ti riposizionavi con un pochino di altezza però almeno nella demo che abbiamo presentato come pitch non c'era il saltino non c'era neanche lo scatto quando poi ci hanno preso da Oseo e Some Guys abbiamo fatto un documento di design dove abbiamo scritto esplorato tutte le nostre idee abbiamo incominciato a introdurre il flip wheel ovvero lo scatto in avanti però anche quella è una meccanica che sfrutta le salite c'è stato l'intervento del nostro del nostro editore che ha suggerito di oltre allo scatto in avanti che sfrutta le salite di aumentare un pochino la profondità dei comandi ecco che è una cosa ottima se prendiamo ispirazione a Mario Odyssey Mario 64 titoli del genere però ecco vedi rispetto a a un Mario Odyssey no? ora che lo l'avete citato la per esempio hai tante possibilità espressive perché comunque è un moveset molto complesso molto stratificato hai insomma ci sono tante cose da mettere in conto invece la cosa che proprio mi è piaciuta tantissimo nel gioco è che c'è una grandissima possibilità d'azione e proprio e di affrontare lo spostamento l'attraversamento però poi sostanzialmente si usa due tasti massi cioè le mosse sono tre ma questo non significa che sia limitati o che è lineare nell'affrontare situazioni ma c'è sempre molta creatività e imprevedibilità soprattutto poi il gioco l'abbiamo imparato a conoscere anche noi mentre lo sviluppavamo a me personalmente sono piaciuti quei commenti che dicevano ah questo gioco mi sta insegnando a analizzare lo scenario in cui sono e a sfruttare lo scenario diversamente per raggiungere varie posizioni quindi oltre ai controlli del taxi c'è il controllo dello scenario in un certo senso cioè quella è il contesto che altera il modo in cui funzionano gli input quindi quella è una probabilità diciamo quasi infinita è enorme c'è questo fattore qua è molto interessante soprattutto il level design prima mi stavo dicendo prima di iniziare la registrazione che sono arrivato abbastanza avanti non l'ho ancora finito il gioco però si nota diciamo un escalation sia a livello di follia proprio delle ambientazioni ma anche di level design penso per esempio a uno degli ultimi livelli che ho incontrato che è estremamente verticale e una delle quest principali è proprio una sorta di scalata verticale intorno a una struttura non voglio non voglio spoilerare nulla perché poi penso sia una delle cose più assurde che è soprattutto come finisce il livello non so non so bene chi influenza chi però c'è chiaramente molta sinergia tra costruzione del mondo e poi moveset e possibilità espressive quindi immagino lo stavate anche accennando che la visione dei livelli del world design level design sia arrivata anche molto in avanti con lo sviluppo del progetto ma più che altro essendo che il moveset si è evoluto nel tempo c'è stata un pochino la necessità di rifare spesso i livelli ma anche perché lavorando poi con un editore a Milestone cose così magari la prima soluzione la seconda soluzione potevano essere migliorate è quello che abbiamo anche fatto nel corso del tempo tipo il livello dell'arcade Arcade Panic l'avremmo rifatto sei volte sei poi col fatto che ci sono livelli aperti magari mentre li crei mentre sei lì che pensi alle mille di ramazioni ti perdi un po' anche tu sviluppatore e tutte queste iterazioni le rifai da capo ma con una testa che sa meglio di prima cosa vuole ottenere e quindi poi fai le cose in maniera anche più ordinata implementi meglio filosofie di design tipo situazione facile in un ambiente sicuro situazione un pochino più complicata situazione difficile di test finale e avreste mai immaginato che avrebbe assunto questa mole perché alla fine è anche un gioco bello bello grande cioè partendo da quella demo che era un ripoff di Crazy Taxi arrivare a un collectadon fatto e finito con insomma tanta tanta ciccia tanta tanta roba da fare abbiamo tagliato fuori pure un po' di contenuti prima di filmare abbiamo pensato tipo altri almeno altri dieci livelli no dieci è un po' troppo forse ce ne hanno tolto parecchi poi forse forse sì però la fine l'esperienza è meno diluita così è tutto un pochino più concentrato e poi comunque durante lo sviluppo sono venute fuori nuove cose che sono venute in mente anche vabbè non vorrei fare spoiler su cosa c'è in endgame però tante idee sono venute fuori anche durante lo sviluppo quindi c'è stata una compensazione magari ok preparati per i livelli ok ok appunto visto che siete partiti da un'idea abbastanza semplice che è quella dell'arcade di Crazy Taxi che alla fine per quanto un titolo epico epocale geniale è molto semplice cioè è un concept geniale ma proprio perché è semplicissimo però poi c'è giocando ci si rende subito conto che è un titolo votato proprio allo speedrunning a rompere un po' il gioco a trovare soluzioni alternative e questa cosa l'avete fatta intenzionalmente oppure a un certo punto vi siete resi conto che c'era veramente tanto potenziale e allora ho visto ci sono poi anche i time attack che quello però magari è più una cosa derivata proprio dal concetto di arcade lo speedrun l'idea dello speedrun è arrivata abbastanza presto da Crazy Taxi ci siamo resi conto dopo praticamente aver implementato un moveset un pochino più profondo che magari era il caso di spostarci parecchio di più sul platformer infatti i livelli a tempo all'inizio erano molti molti di più adesso saranno 4 5 4 lo speedrun lo speedrun credo che in realtà sia abbastanza frequente nei platformer 3D quindi è venuto un pochino naturale pensarci vedendo anche magari qualche speedrun di Mario 64 comunque gli speedrunners sono quelli che poi si mettono a smontare il tuo gioco e che con il moveset tengono delle cose che ci stupiscono anche a noi vediamo dei video online che sono diciamo ma come ha fatto c'è stata già una prima risposta abbastanza forte da parte della comunità di speedrunner che già si stanno impegnando non siamo ancora con una community gigante diciamo ancora qui quelli che si stanno mettendo stanno facendo cose che ci lasciano bocca aperta hanno addirittura scoperto come usare il timing di alcune variabili per fare un saltino dopo che hai già fatto lo scatto sai che il saltino lo puoi fare se interrompi lo scatto prima di andare avanti hanno trovato il timing perfetto per ottenere sia lo scatto in avanti che poi successivamente un piccolo saltino quindi ottengono un momentum verticale quando in realtà dovrebbe essere solo orizzontale perché magari sono per aria raggiungono delle distanze che io ma poi tra l'altro nei time attack nei livelli sfida tempo prima di rilasciare il gioco ci sfidevamo tra me lui e i publisher e riuscivo a essere sempre anche primo abbastanza facilmente adesso che c'è la gente che ci gioca non riesco a entrare nei primi dieci beh questa poi sia la soddisfazione più grande quando perdete il controllo della vostra creazione che adesso è in mano al pubblico ma anche andare out of bounds non è qualcosa che vogliamo togliere di torno abbiamo messo invece delle cose delle easter egg vogliamo proprio che i giocatori si divertano a rompere il gioco cioè l'idea del gioco è vediamo se riesco ad arrivare in quel punto lì esatto e quindi non possiamo andare poi a togliergli quella parte del divertimento parliamo delle ispirazioni perché se a livello di gameplay è chiaro che siete partiti da crisi taxi poi vi siete rivolti al mondo di platform e da lì poi insomma c'è tutta la scuola di nintendo e non solo vabbè insomma tutta la scuola giapponese ma a livello di art style io cioè ci rivedo tantissima roba che però forse è anche un po' un'allucinazione mia non lo so no no perché perché io mi ricordo che alla games week mi ho detto sembra la grafica del saturn sembra e voi giustamente mi avete risposto siamo troppo giovani per ci giocato però però non so i riferimenti palesi sono anche là esteticamente a crisi taxi secondo me poi insomma ditemi voi e a quell'era dell'arcade anni fine anni 90 inizio anni 2000 radical bikers radical bikers è proprio e prende spunto da da un immaginario retro che prende tante cose infatti un sacco di giocatori ci hanno visto tanti di quei giochi cioè ormai ne abbiamo sentiti un casino di titoli veramente cioè non si rifà proprio a un titolo specifico beh alcuni sonic per le tech sì sì soprattutto comunque mario 64 sonic a volte anche per i font crash band di coppia anche genio casui comunque sì adesso anche perché siamo comunque in due fare comunque una grafica low poly retro ci permette di creare molti più contenuti anche un sacco di modelli sapere i texture poi tra l'altro non so cioè è stato anche il primo lavoro a cui ho lavorato in 3D perché fino adesso ho sempre fatto tutto in 2D quindi ho imparato diciamo da da questa cosa qui e cominciare a fare in 3D con low poly e quindi mi sono ricordato appunto le cose le reference in low poly che ci sono nel passato a cui ci siamo ispirati sì ma diciamo che poi l'evoluzione grafica c'è stato prima di fare di firmare con l'editore è passato comunque un anno dove Lorenzo si è allenato sì e successivamente verso fine 2023 ci siamo rimessi a migliorare un sacco di cose sia dal punto di vista di level design funzionalità la minimappa è stata introdotta praticamente a fine 2023 ma anche la grafica ha subito un rework sì negli ultimi mesi ho rimesso a mano quasi a tutto ho richiamato tutti gli edifici ho messo anche l'ambiente occlusion su ogni oggetto praticamente oggi sono stati intensissimi sì e vi aspettavate che lavorare diciamo con un publisher sarebbe stato così beh penso da una parte stimolante però dall'altra anche c'è tutto un altro ritmo c'hai più deadline c'hai più scadenze c'è più un po' più di pressione no? allora sì sì allora ci sono state poi un pochino di sorprese nel senso che noi a novembre dell'anno scorso in teoria avevamo finito però c'è stato dell'utilissimo feedback e ci siamo rimessi all'opera capito? quindi diciamo che poi si sono create delle deadline extra se no comunque come editore Those Are We Some Guys sono sempre stati attenti diciamo al burnout ecco a non farci impazzire dietro al gioco quando abbiamo firmato sono stati i primi a dire ehi queste milestone pianificatele in modo che non morite nel tentativa di raggiungerle esatto cioè metteteci del tempo extra nelle milestone ok poi gli ultimi mesi abbiamo stravolto il gioco però per ritornare sul punto sul lato stilistico da questo punto di vista la vena parodistica che c'è no? quindi tutti i riferimenti giochi pop culture eccetera eccetera pure quella è venuta dopo o da subito hai deciso no? qua dobbiamo fare la parodia delle parodie e deve essere no secondo me siamo cioè in un videogioco ci vogliamo divertire vogliamo ridere poi anche il nostro carattere quindi cioè facciamo un videogioco vogliamo far divertire la gente e metterci più idee folli che ci vengono in mente quindi in realtà non è una cosa a cui abbiamo neanche dovuto pensare è una cosa che naturalmente ci viene da buttarcela dentro durante lo sviluppo abbiamo spesso discusso di che idee mettere e cosa no è tipo quella del livello del grattaceno non diciamo niente ero pure un po' decisa all'inizio su quella però la prima è convinta sono soddisfatta la cosa è anche anche un po' questa e succede anche con Crazy Taxi che il gioco è molto frenetico è molto veloce e e a volte ti perdi i dettagli ti perdi tutte le easter egg tutte le chicchette ti devi fermare un attimo per guardare bene chi sta investendo quello che stai attraversando e ci sta veramente veramente figo e così diciamo per avviarci un po' la conclusione per quanto riguarda diciamo progetti futuri cioè nel senso se avete intenzione di continuare a supportare il gioco se magari avete visto avete parlato anche di parti scartate se magari c'è qualche intenzione di fare o un secondo episodio o un DLC o magari già siete proiettati verso qualche altro tipo di di produzione allora di DLC o secondo titolo credo sia un pochino presto però la nostra mente è al lavoro ovviamente come anche quella dei nostri editori il gioco è uscito da poco dobbiamo perlomeno nel prossimo futuro inventarci qualcosa poi non posso andare più di tanto nel dettaglio su quali sono state le discussioni con il nostro editore per adesso noi in realtà pensavamo di metterci magari a un pochino rinfrescare la mente facendo giochini piccoli dove c'è molta opportunità di imparare cose nuove di sperimentare di anche prendere le cose con meno ritmo deadline meno ansia questo nell'immediato futuro perlomeno poi di idee per progetti futuri più grandi o anche addirittura per qualche spin off o due numero due per yellow taxi ne abbiamo però ecco sono nel mondo ancora delle idee dai dai speriamo speriamo ah e poi soprattutto avete mai considerato un porting per switch dico la mia sarebbe ma ve l'ho detto mi sa già la game switch sarebbe il gioco perfetto su switch anche perché andreste a intercettare un pubblico che queste cose proprio le brama le brama ardentemente e c'è molta al di là del lato parodistico e tutto quanto c'è molta continuità con odyssey 3d world insomma quindi secondo me ci starebbe benissimo ecco non possiamo dire niente però va bene va bene io comunque vi continuerò a seguire vi osserverò vi ringrazio tantissimo per la disponibilità ci tenevo tantissimo insomma a fare a fare questa chiacchierata e sono felice che sta andando molto bene insomma a livello di feedback del pubblico dai di nuovo grazie mille ci vediamo presto spero di sentire presto non lo so qualcosa relativo alla switch ciao e questo poraccio è tutto per oggi io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e per aver guardato anche questo video bravi bravissimi non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà voi nel frattempo mi raccomando fate bravi riposatevi ma soprattutto nerdate duro soprattutto sui giochi indie ci vediamo presto io sono il poroiello Michele Taxi ciao ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul porion il patreon dei poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa a Grazie a tutti.